Il caro Gasolio rischia di mettere davvero in ginocchio il settore dell'autotrasporto in Abruzzo. Facchinetti, voi avete incontrato anche il sottosegretario della giunta regionale d'Annuntis. Cosa è uscito fuori da questo incontro e quali sono le prospettive per il settore oggi? Il caro Gasolio sta determinando una sofferenza delle imprese che svolgono il trasporto di merci e anche di persone che non si vedevano da tantissimi anni. C'è stato un aumento dei costi nell'ordine di, abbiamo stimato, circa minimo 20.000 euro all'anno in più per ciascun camion che viaggia in Italia. Tutto questo sta determinando veramente il collasso delle imprese che sono sull'orlo del baratro. Alcuni scelgono di non movimentare più le merci, non per protesta ma proprio per l'insostenibilità dei costi determinati da questo caro Gasolio che non accenna a diminuire. Siamo consapevoli che le motivazioni non sono di carattere internazionale, quindi non è sicuramente la regione quella che potrà risolvere i problemi. Però così come a livello nazionale la Confederazione e la CNA FITA nazionale stanno chiedendo al governo degli interventi concreti e soprattutto rapidi per risolvere l'emergenza, così noi a livello regionale abbiamo chiesto che la regione Abruzzo si faccia carico delle istanze delle imprese del trasporto sia attraverso una sorta di attività di solidarietà e di pressione nei confronti del governo, in conferenza Stato-Regioni affinché ci sia l'adozione di misure concrete a sostegno del settore, sia tramite un intervento diretto con la concessione di alcuni sussidi che ovviamente dovrebbero essere stimati nell'ordine almeno di una decina di milioni di euro, così come è stato fatto in passato per altre categorie produttive della regione a causa della pandemia, così chiediamo che oggi venga fatto per il settore dell'autotrasporto che durante la pandemia ha garantito l'approvvigionamento di supermercati di genere di prima necessità a retto il Paese, senza chiedere aiuto allo Stato. Oggi il settore dell'autotrasporto ha bisogno di un aiuto almeno fin quando non sarà cessata questa terribile emergenza.